Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing oggi una doll in scala 1 a 6 di un'azienda di terze parti la Mass Toys che lavora senza licenza doll dedicata al Batman di Keaton del 1989 quindi Bruce Wayne nei suoi abiti eleganti nei suoi abiti borghesi quindi non con la suit di Batman ed è questo piccolo capolavoro che vedremo fra poco vi ricordo che l'ho acquistato su Il Colosso dei Nei quindi ringrazio Gianluca del Colosso dei Nerd e quindi ragazzi non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi, di analizzarlo insieme a voi perché si prospetta un vero e proprio capolavoro la scatola che ci propone Mass Toys è tanto semplice quanto accattivante con questa illustrazione sulla parte frontale del box di Batman Batman dell'89 ovvero il Batman di Keaton uno tra i più iconici se non il più iconico sullo sfondo la scritta Batman nel classico colore giallo e qui siccome vi ricordo che Mass Toys produce questa doll senza licenza troviamo il nominativo Mr.W che probabilmente è il nome che hanno deciso di dare a questo personaggio nello specifico va a ricordare questa forma ovale ovviamente il logo di Batman qui sulla parte in basso a sinistra invece il codice identificativo del prodotto che è numero Matt 012 sui lati della scatola semplicemente il logo Mass Toys da entrambe le parti e invece sul vetro un'anteprima di quello che andremo a vedere all'interno cioè la figure di Keaton e in basso invece soliti warnings e crediti andiamo a fare un unboxing velocissimo semplicemente si toglie la parte frontale in questo modo e qui troviamo non troviamo una slip cover un work art un qualcosa ma troviamo semplicemente uno strato di gomma piuma che va a proteggere il contenuto dalla scatola ed eccolo qui già possiamo vedere la doll in tutto il suo splendore con qualche accessorio qualche paio di mani intercambiabili e poi andando a rimuovere il primo strato troviamo al di sotto la basetta con relativo supporto e questa cosa che andremo a vedere fra poco infatti dedichiamoci proprio adesso agli accessori molto buona la gamba di accessori in dotazione a questo Bruce Wayne di Mass Toys cominciamo con la basetta che è di forma esagonale allungata sui lati e qui al centro va a rappresentare il logo di Batman 89 che è semplicemente stampato su questo materiale plastico anche abbastanza leggero non ci sono segni di satinatura oppure di lucido o materiale differente rispetto al resto della base quindi è semplicemente stampato sinceramente una qualità abbastanza mediocre avrei preferito qualcosina in più poi invece sulla parte frontale la targhetta rettangolare con sfondo cromato e riportato ovviamente il nome Bruce Wayne in nero vi è poi la possibilità di andare ad inserire il supporto per tenere in piedi il nostro Bruce Wayne semplicemente con questi due alloggiamenti che fanno da piano di invito per il supporto e poi andiamo avanti con invece le mani le mani sono di tutt'altra qualità secondo me rispetto alla basetta ne abbiamo tre paia più un quarto rilassato montato sulla doll e sono di veramente una pregevole fattura guardate i dettagli ad esempio di questi pugni chiusi le vene le varie macchie della pelle le nocche che hanno un painting differente rispetto al resto della mano e sono evidenziate proprio dallo sculpt delle nocche stesse sono bellissime davvero stessa cosa le unghie che sono scolpite e verniciate e anche l'interno dei palmi della mano molto belle queste con i pugni serrati poi ne abbiamo altri due invece per andare ad afferrare qualcosa probabilmente il bicchiere di champagne che vedremo fra poco anche queste molto di pregevole fattura guardate anche l'interno con le varie righe le varie pieghe molto belle e poi queste invece un po' più rilassate ma comunque con le dita socchiuse differenti invece da quelle montate appunto sulla doll che sono completamente rilassate anche queste nulla da dire tra l'altro sono anche abbastanza morbide al tatto quindi molto realistiche per quanto riguarda lo sculpt e il painting poi andiamo a vedere proprio il bicchiere davvero bellissimo questo bicchiere di champagne ovviamente è in plastica non è in vetro e all'interno vi è un materiale che sembra essere una sorta di resina di questo colore giallo trasparente che riflette la luce e sembra davvero da proprio la sensazione di un bicchiere di champagne pieno come vedete anche in cima non è semplicemente piatto non so come come spiegarmi ma comunque dà la sensazione della presenza di un liquido all'interno con qualche bollicina davvero molto ben realizzato così come anche il bicchiere che è molto curato sia nella parte del gambo della base sia in questa parte qui che è ben scolpita e questi dettagli sono anche in rilievo quindi davvero un'ottima cura per questo bicchiere poi gli occhiali invece sono in metallo sono molto delicati e molto leggeri nulla di particolare da dire si vanno ad applicare al nostro Bruce Wayne semplicemente andandoli ad appoggiare sulle sue orecchie massima attenzione nel maneggiarli perché come vedete sono molto leggeri e potrebbero rompersi poi abbiamo questa fascia ragazzi non so come definirla comunque fascia per il completo elegante che va semplicemente messa appunto intorno alla vita di Bruce Wayne e si va ad attaccare poi tramite velcro in questo modo poi abbiamo invece un secondo papillon ce n'è già uno montato sulla doll che però è a quadretti come vedete nero con quadretti bianchi e questo invece può essere un papillon sostitutivo che a differenza della fascia che abbiamo visto poco fa non ha un velcro ma va comunque proprio inserito all'interno dell'apposita fibbia e poi ovviamente va tolta la testa e messo questo qui nulla di particolare l'accessorio più controverso e inutile secondo me è questa roba qui che è un po' inquietante perché è una foto di Keaton in bianco e nero ripresa ovviamente dal film di Batman 89 è racchiusa in questi due queste due parti di plastica che sono tenuti insieme da un magnete infatti se riesco vi faccio vedere è possibile infatti aprirle e volendo sostituire la foto che è semplicemente una stampa si può sostituire con un'altra ora poi semplicemente si va a rimettere e il gioco è fatto anzi va messa un po' meglio magari non così come ho fatto io ecco non lo so non so se è una caratteristica di Mass Toys che mette questa foto in tutti i suoi personaggi ovviamente potremmo metterla vicino in esposizione vicino al nostro Keaton con questo piedistallo di plastica trasparente anche qui si sarebbe potuto fare un po' di più a dare un sacco di macchie un sacco di cose che non mi piacciono tantissimo va applicato in questo modo e vi dico mi sa un po' di inquietante perché mi fa molto foto del cimitero quindi sicuramente nella mia collezione nella mia esposizione questa roba qui non ci sarà però magari a qualcuno piace veniamo ora alla doll che è la dimostrazione secondo me di come spesso aziende di terze parti che lavorano senza licenza vengano sottovalutate e siano invece in grado di produrre dei veri e propri capolavori capolavori come questo Edscold che è stato il motivo che mi ha spinto ad acquistare questa Mass Toys e devo dire che avendola adesso in mano non me ne pento affatto ha soddisfatto in pieno in mio parere le aspettative del prototipo le foto che erano state fatte vedere nel prototipo e va a richiamare in tutto e per tutto Keaton dell'89 guardate gli occhi naso la bocca le varie macchie sulla pelle il profilo che è praticamente identico all'attore ma anche lo sculpt dei capelli delle orecchie e di tutto il resto guardate anche l'ombreggiatura della barba comunque rasata ma comunque si vede gli zigomi davvero un ottimo lavoro e sono veramente molto contento secondo me supera anche lo Toys del Keaton dell'89 uscita ormai diversi anni fa stessa qualità per quanto mi riguarda anche nelle fattezze di questo vestito innanzitutto le proporzioni sono ottime e il vestito non è da meno la giacca è di un buon tessuto sia al tatto che alla vista anche la colorazione non è affatto male non vi è il fil di ferro ma poco male per abiti del genere la camicia al di sotto ha questi bottoni dorati e ha questo ricamo centrale che è davvero eccellente ha una sorta di satinatura non so come chiamarla ragazzi con la cucitura comunque nella parte centrale anche qui il colletto che viene piegato nella punta e il papillon che come dicevo nella sezione accessori questo è soltanto uno dei due che ci viene fornito da must toys questo è nero con le varie righe bianche così come anche questa parte poi ovviamente di ricambio abbiamo anche quello nero le due rispettive parti completamente nere io personalmente preferisco questo poi il resto della giacca perfetto abbiamo i vari bottoni anche sulle maniche e stessa cosa i pantaloni i pantaloni che tra l'altro sono con il velcro come potete vedere quindi volendo si può aggiustare per esempio io qui avrò da sistemare un attimino la camicia per portarla un po' più in basso quindi si può comunque modificare il tutto e quindi sono davvero molto molto soddisfatto andiamo verso il basso quindi verso le scarpe anche qui i pantaloni innanzitutto sono stirati con questa riga che rende il tutto molto elegante ovviamente adesso l'ho appena tirato fuori dalla scatola ragazzi quindi va sistemato e le scarpe sono molto lucide di questo nero lucido molto eleganti ed anche le fattezze non mi dispiacciono per niente con questi lacci scolpiti e qui sulla punta appunto si intravede molto il riflesso della luce ottimo lavoro anche per quanto riguarda le scarpe le suole anche qui c'è un minimo di cura perché non sono lisce ma c'è comunque un piccolo tacco satinato anche qui ci sono vari dettagli sulla parte della punta del piede insomma nulla è lasciato al caso e quindi sono veramente molto contento perché non mi aspettavo appunto da un'azienda di terze parti che si potesse fare una doll del genere adesso andiamo a vedere un attimo le articolazioni ragazzi che sono sinceramente la cosa che mi preoccupa di più per questi body di terze parti però magari mi smentiranno anche da questo punto di vista allora andiamo a ruotare la testa ovviamente può essere ruotato in questo modo può andare verso il basso verso l'alto e andare anche lateralmente leggermente poi andiamo con la spalla abbiamo ovviamente la butterfly joint le braccia che possono andare eccole le articolazioni appunto sono un po' rigide però è anche una doll nuova posso andare verso l'alto non voglio forzarla troppo per non rischiare di rovinare il vestito sentite che roba e anche all'indietro ovviamente può anche essere alzato il braccio fin qui probabilmente ostruito dal vestito e una butterfly joint eh sì scusate una doppia articolazione al gomito che permette di far salire il braccio fin qui ovviamente solita articolazione del polso e anche il movimento e stessa cosa da quest'altra parte ma qui il rumore dell'articolazione è ancora più intenso però va bene nulla di particolare ragazzi ovviamente dimenticavo c'è anche la rotazione del bicipite per quanto riguarda il busto può essere ruotato piegato in avanti anche di parecchio e all'indietro anche qui c'è una bella escursione poi le gambe possono essere allargate ma non lo farò troppo ragazzi per non rischiare di rovinare i pantaloni possono andare in avanti stesso discorso quindi comunque arrivare a 180 è bruttissima questa cosa però è normale che sia così e all'indietro invece è molto limitato come al solito dallo scalp del bacino poi ginocchia come vedete la frizione delle articolazioni è molto intensa però doppia articolazione del ginocchio e ovviamente si può girare ovviamente anche il quadricipite si può girare anche la parte del ginocchio e l'articolazione del piede della caviglia ovviamente è libera avendo solo un peg che va a sorreggere la scarpa ripeto sono molto soddisfatto adesso andiamo a fare un paio di pose vedremo anche gli occhiali montati su keytone e poi andiamo per le considerazioni finali grazie a tutti In conclusione ragazzi sono davvero molto molto sorpreso Molto colpito positivamente da questo Bruce Wayne Keaton 1989 di Must Toys Sono veramente molto soddisfatto, ho avuto qualche problema in fase di posing Sebbene non abbia fatto delle pose estreme come avete visto Però c'è un piccolo difetto che ho riscontrato nel peg del piede Poi non so se è una cosa che riguarda la mia doll o meno Ma comunque tende ad essere un po' ballerino quindi a non essere perfettamente stabile A di là di questo ragazzi vi ripeto un head scoot fenomenale Body pazzesco, ottime le proporzioni Ottimo il vestito, la cura nei dettagli della camicia, del papillon Di tutto quello che concerne questa figura Anche gli accessori, dagli occhialini al bicchiere di champagne Molto curato in ogni minimo dettaglio Quindi sono veramente molto molto soddisfatto E non vedo l'ora che arrivi, che Ottois si sbrighe A rilasciare il Batman 1989, stavolta la versione con il vestito Per affiancarlo appunto a questa doll Il motivo principale appunto oltre all'head scoot Stato del mio acquisto sul colosso di nerd.com E' stato proprio la possibilità di affiancarlo al Batman 89 di Ottois Che uscirà a breve Fatemi sapere voi ragazzi che cosa ne pensate Soprattutto se siete riusciti ad accaparrare la vostra copia Non so se è ancora disponibile Sinceramente non mi sono informato Però io ragazzi ve lo consiglio Non stiamo parlando di prezzi esagerati Siamo intorno ai 200 euro Se non ricordo male prezzo italiano Per una doll che secondo me è perfetta Se volete avere una versione di Keaton del 1989 Con questi abiti eleganti Davvero perfetta Io sinceramente farò altre doll del genere Per esempio ho intenzione di fare uno Spider-Man Con i vestiti borghesi Utilizzando ovviamente la seconda testa di Ottois Dello Spider-Man Red and Blue Suit Stessa cosa farò con Goblin Insomma questa cosa di avere la doppia versione di un personaggio È molto molto interessante Quindi ho voluto cogliere l'occasione anche questa volta Detto questo ragazzi io vi saluto Ci vediamo come al solito In un prossimo contenuto del canale Non so quando uscirà questo video Quindi non posso darvi un'anticipazione Di quelli che saranno i prossimi contenuti Quindi statemi sempre bene Lasciate un mi piace al video Se vi è piaciuto Condividetelo E fatemi sapere qui sotto nei commenti Che cosa ne pensate Ci vediamo come al solito Per un prossimo contenuto Ragazzi Statemi bene Ciao A presto